Le seguacce, no? Questa non ci fa salire. Prima ci sono salito, cioè riusciamo anche a comunicare tra le live, a divincolarsi tra queste live, appunto collaborando, cercando di creare uno schema, uno schema di riferimento, no? Vedi, poi qua, ci sei, fa sapere, il tuo amico mi ha bloccato, ovviamente ho oscurato la pelle. Vai da questo, mandami il tuo nome, non ho fatto screenshot. Adesso non riesco, cioè, cerchiamo anche di collaborare per riuscire a salire nelle live e dire la nostra, perché sennò non ci danno spazio e noi abbiamo elementi comunicativi nuovi. Abbiamo un linguaggio nuovo e stiamo creando una collaborazione che si sta estendendo, ok? Buongiorno, minchia. Anche agli autisti, io non ci faccio live, perché una volta uno si è bla bla bla, così tanto che stava facendo un incidente. Ti rendi conto? Cioè, questo chi si è alterato, questo camionista si è alterato talmente tanto che ha fatto un incidente. Tra l'altro io conosco molto bene il mondo del camion, perché ho, qua parliamo di TikTok, ma su YouTube ho conosciuto tanti camionisti, le loro problematiche, e poi portare poi questi problemi all'ordine del giorno è fondamentale per cercare di cambiare il mondo del lavoro. Io sono andato bene con lui, mi ha lasciato dire qualsiasi erideva. Ho detto che ho sbagliato a far vedere gli incidenti. Tu e quando sei durato, appena hanno capito, mi ha bloccato. Appena capiscono ti blocca. Pensano di avere a che fare con delle persone, anche quella persona con cui sto parlando, un grande professionista. Manda troll, su, manda i tuoi amici, se non ti fa parlare. Io non sono un troll, io sono una persona, non mi sono mai ritenuto un troll, non so cosa pensa la gente. Andiamo avanti. Il tipo che ci parla non è una pigna. Stiamo a vedere, stiamo a vedere. Sono sempre sul pezzo, su YouTube metti i nostri messaggi senza la tua identità. Parole con un troll, siamo mitici. Tieniti buono Pantino Club. Cioè, stiamo costruendo un prodotto, un prodotto nuovo. Può piacere o non piacere.